Domenica mattina 12 maggio a Baronissi avverrà Baronissi in bici. Vi sarà un'invasione di migliaia di biciclette, la quale manifestazione non è altro che un'adesione al progetto nazionale della FIAB, giunta alla ventesima edizione. L'associazione Insieme, che io mi pregio di essere il presidente, ha organizzato ancora una volta questa manifestazione. Partiremo da Piazza Mercato alle 8.30 di mattina, faremo un tour per le strade di Baronissi, nel corso del quale faremo una sosta dove sta il parcheggio di città dei giovani e della medicina. Offriremo a tutti un'abbondante colazione, composta da un viciere di latte, da una bottiglina d'acqua e da un cornetto. Aspettiamo tutte le famiglie numerose, sarà un momento ludico che andrà nell'ottica della mobilità sostenibile e così da dare spazio anche alle tante mamme che festeggeremo in bicicletta. Speriamo nell'adesione di tutti quanti voi, Baronissesi e non, questa è una manifestazione che è molto sentita dalla comunità. Abbiamo anche coinvolto le scuole di Baronissi, coinvolgeremo l'intera Valle dell'Irno attraverso l'informazione, la comunicazione e la pubblicità della stessa manifestazione.